Bello, torniamo a parlare della sicurezza nella nostra cucina e do subito il benvenuto ad Alessandro Di Flaviano. Benvenuto Alessandro perché dobbiamo parlare anche in questo caso di come noi trattiamo i nostri utensili in cucina, quelli più comuni, perché tutti noi sbagliamo, non li sappiamo pulire, non sappiamo usare anche i nostri utensili e qui potrebbero e potremmo noi mettere a rischio anche la nostra salute. Allora iniziamo un po' dagli utensili che usiamo e anche dai piccoli elettrodomestici che noi usiamo tutti i giorni nella nostra cucina. Allora innanzitutto qual è il sapone e qual è il prodotto che noi dovremmo utilizzare, Alessandro? Beh allora, la pulizia e l'igiene in cucina sono fondamentali e devono essere un prerequisito. I prodotti sono molto semplici, li abbiamo tutti in casa e sono i seguenti. Allora per prima cosa la spugnetta amata, abrasiva, gialla e verde che hanno tutti in cucina, la spugnetta, la pezzetta colorata, quadrata, che questa poi vi spiego a che cosa serve, anche questa molto importante, acqua, acqua e detergente, quindi classico sapone per i piatti, poi in questa bacinella andremo a creare la nostra soluzione disinfettante, quindi acqua e in questo caso candeggina andremo a utilizzare, poi abbiamo il canovaccio, classico canovaccio con cui ci asciughiamo le mani, in realtà anche la nostra carta assorbente, di cui parleremo dopo. Abbiamo, infatti c'è un perché, noi abbiamo messo una carta senza disegno e una carta bianca, c'è una differenza che ci dirà esattamente come utilizzare le due versioni della carta assorbente, però io vorrei ricordare il tuo libro, vedete la scienza del cibo, Alessandro Di Flaviano e all'interno ci sono tutti questi consigli utili che potete rileggere, ovviamente anche sulla nostra app potete rivedere tutti i consigli del nostro caro Alessandro. Allora iniziamo subito dai taglieri, questa è la prima cosa che noi usiamo in cucina, io ne vedo uno di legno e uno di plastica, allora iniziamo con quello di plastica, come lo dobbiamo pulire? È uno dei dilemmi della vita, come si puliscono i taglieri? Allora, intanto bisogna dire che c'è una bella differenza tra quello di plastica e quello di legno, vanno lavati in due modi differenti, quello di plastica va lavato in lavastoviglie, perché regge le alte temperature, non è poroso a differenza di quello di legno, quindi non assorbe i liquidi, quindi tranquillamente lo mettiamo in lavastoviglie e siamo tranquilli. Se non abbiamo la lavastoviglie, acqua, sapone e possiamo utilizzare la nostra soluzione disinfettante, quindi allora partiamo, abbiamo la nostra spugnetta, andiamo ad aggiungere qua un po' di detergente, di sapone per i piatti? Sì, sapone per i piatti semplice, quindi andiamo a creare la nostra schiuma con un po' di movimento e quindi andiamo ad immergere la nostra spugnetta e puliamo. Esattamente. E andiamo a pulire. Pulire. Classico, semplice. Poi? Poi andiamo a risciacquare, attenzione, con questa spugnetta qui. Ah, cambiamo spugnetta. Cambiamo spugnetta perché se è presente dello sporco andrà a finire la nostra spugnetta abrasiva che ha il compito di rimuovere lo sporco, mentre con questa che sarà del tutto pulita andiamo solo a risciacquare, quindi la immergiamo nell'acqua, la strizziamo bene e andiamo a rimuovere, esatto, l'eccesso ovviamente sotto l'acqua. E la soluzione disinfettante a cosa serve? La soluzione disinfettante, come stavo dicendo prima, va bene per chi non ha la lavastoviglie, quindi non può disinfettare attraverso la lavastoviglie, ma può immergere il nostro tagliere nella soluzione fatta, lo appoggio qui, soluzione fatta da candeggina. Ah, usiamo la candeggina. Usiamo candeggina, candeggina non profumata, poco concentrata, solitamente al 3%, si va a mettere un cucchiaio circa ogni 3 litri d'acqua. Qui per esigenze televisive abbiamo un po' di meno. Ok. Però è un esempio. Andiamo a mettere circa un cucchiaio. Allontaniamoci perché la candeggina è pericolosa. Esatto, dopo parleremo che i prodotti per la pulizia sono pericolosi, bisogna prestare attenzione. E sciocchiamo? Sì, andiamo a immergere, in questo caso non ci sta del tutto, ma è un esempio, lasciamo per 5-10 minuti, lasciamo agire il disinfettante, anche il tempo di contatto è molto importante, poi successivamente lo togliamo e lo andiamo a sciacquare sempre con la spugnetta pulita sotto l'acqua corrente, quindi acqua a filo, e andiamo a sciacquare. È un po' lungo, però ne vale la pena pulire i nostri taglieri in questo modo ne vale la pena. Questo è quello di plastica. Quello di legno? Quello di legno invece acqua e sapone semplicemente, perché il legno è molto poroso, quindi anche in questo caso attraverso l'azione meccanica andiamo a rimuovere tutto lo sporco, e poi lo sciacquiamo semplicemente con l'acqua, quindi qua c'è la soluzione, quindi qua l'acqua. Esatto, è l'acqua semplice, basta, soltanto acqua e sapone? Sì, diciamo che non andrebbe utilizzato a contatto con carne, pesce, uova ad esempio, quindi cibo a rischio, andrebbe utilizzato per pane, per magari torte, cibi che non contengono liquido. Soltanto per il pane sicuramente, insomma quello di legno è ideale, altrimenti usate questo di plastica, è sicuramente più comodo, più facile anche da pulire. Allora, quando noi andiamo al supermercato, caro Alessandro, noi troviamo ovviamente il sapone per i piatti, igienizzante, disinfettante, allora c'è una differenza? E qual è il migliore se c'è uno migliore? Assolutamente, ci sono molte differenze. Allora, per prima cosa, che cosa significa detergente? Che cosa fa? Qual è il suo compito? Il detergente serve a rimuovere lo sporco, quindi questa soluzione è molto importante per rimuovere lo sporco dal nostro oggetto in questione, quindi ad esempio dal tagliere, e spostarlo nel lavabo ad esempio. Bisogna specificare che non disinfetta, quindi non uccide i batteri, può rimuovere solo una piccola parte. Mentre disinfettare significa eliminare la maggior parte dei batteri presenti, ok? Questa è una delle prime differenze. Per cui è da preferire il disinfettante rispetto a... Dipende dalla preparazione, se abbiamo tagliato del pane ovviamente non abbiamo bisogno di disinfettare perché è un alimento che contiene poca acqua, molto sicuro, pochi batteri. Igenizzare invece cosa significa? Igenizzare è un sinonimo di detergere, quindi significa rendere igienico o rendere pulito molto semplicemente. Sanificare invece è un sinonimo di disinfettare, quindi rendere sicuro dal punto di vista batteriologico. Allora andiamo, io vedo lì il forno, il forno a microonde, è qui sempre il dubbio come dobbiamo pulire il forno, che cosa dobbiamo utilizzare? Lo sgrassatore va bene? Lo sgrassatore va bene, si può utilizzare perché comunque rimuove lo sporco lo sgrassatore, ma va bene anche acqua e sapone molto semplicemente. Semplicemente, per prima cosa andiamo a rimuovere il piatto rotante, se si può rimuovere, eccolo qui, e andiamo a lavarlo come prima come col tagliere con acqua e sapone. Probabilmente ci saranno dei residui di cibo perché il microonde scalda il cibo, stessa cosa vale anche per il forno, quindi andiamo a rimuovere, ecco facendo bella schiuma che intrappola lo sporco e parte dei batteri, andiamo a rimuovere ecco qui maggior parte dello sporco e poi lo sciacquiamo sempre con la pezzetta pulita. E l'interno del microonde sempre con la stessa soluzione oppure va bene lo sgrassatore, ma possiamo essere sicuri che lo sgrassatore poi non va a finire nel cibo che noi riscaldiamo, che facciamo nel microonde? Allora, si può utilizzare sempre lo sgrassatore o acqua e sapone molto semplicemente, quindi ad esempio in questo caso utilizziamo sempre questa spugnetta per far vedere, andiamo a mettere lo sgrassatore e lo lasciamo agire o altrimenti con la spugnetta andiamo a pulire l'interno, ovviamente in questo modo. E poi sciacquiamo sempre con l'acqua. E poi sciacquiamo con l'acqua, esatto, molto semplicemente. Una volta ogni tanto possiamo anche disinfettare utilizzando la soluzione di cui ho parlato prima. Allora, sono tante le domande. Allora, ne scelgo una. Simona ci scrive dalla provincia di Ancona, ci chiede, ho letto che non bisogna utilizzare la carta assorbente con i disegni colorati. È così, dottore? E qui viene appunto la differenza. Allora, qual è la differenza e come bisogna usare queste carte assorbenti differenti? Questa sicuramente è molto più carina, no? Sì, assolutamente. Questa è la classica che hanno tutti in casa. Ma è vero questa cosa? Allora, è vero che la carta con i disegni, la carta colorata, non va a contatto con gli alimenti. Bisogna leggere l'etichetta, i consigli dei produttori, perché può contenere delle sostanze molto pericolose per la salute se va a contatto con gli alimenti. Quindi il consiglio è quello di utilizzare il retro, che in questo modo non va a contatto l'alimento con l'inchiostro presente, o in alternativa di utilizzare la carta senza. Facciamo prima. Compriamo la bianca, cosa anche meno. No, vabbè, sto scherzando, ovviamente. Questa è sicuramente più carina e più divertente. Grazie a Dottor Alessandro Di Flaviano per averci dato questi consigli. Vi ricordo sempre il libro La Scienza del Cibo, con tanti consigli davvero utili. Se volete rivedere questa nostra puntata con i consigli del nostro Dottor Di Flaviano, potete scaricare la app Play 2000. È facilissima, è gratuita. Andate alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico e lì ci sono tutti i consigli, ovviamente, dei nostri esperti. Grazie davvero per essere con noi. Ora la linea da subito, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Ma noi torniamo domani, sempre in diretta e sempre alle 9.45. Vi aspettiamo. Baci baci a tutti. Grazie.